Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi Questo è un glitch per duplicare le BMX Qualcuno sicuramente mi dirà qual è l'utilità di duplicare le BMX Allora, duplicare le BMX e averle nella base operativa Ci aiuterà a fare il solo money glitch che ho portato mezz'ora fa Insomma, mezz'ora fa, non ora fa, non so quanto tempo Quindi andate in un garage e prendete una LGRH8 La mettete fuori dalla base operativa Qui vi faccio vedere pure la data ragazzi Così almeno vediamo tutti gli equivoci e cazzate varie Come dicevo, mettete la vostra LGRH8 Che volete sacrificare fuori dalla base operativa E dentro la base operativa ovviamente dovrete avere già una BMX E come ho già detto, vi porterò anche il glitch per mettere la BMX dentro la base operativa O per fare soldi però in due Questo che vi sto facendo vedere serve per poter fare un glitch da soli Quindi a questo punto andiamo nella base operativa dove già abbiamo una BMX Perché in pratica ragazzi ogni volta che noi andremo a fare una duplicazione La BMX che è nella base operativa andrà persa Quindi potremo fare una duplicazione Poi le altre Invece quante più BMX abbiamo nella base operativa Quante più duplicazioni potremo fare Quindi a questo punto ragazzi andiamo a duplicare questa BMX Mettete la BMX qui La incastrate dietro il tastierino in pratica Dietro il tastierino numerico E cercate di creare la situazione di teletrasporto come sempre ragazzi Vedete io premo appena appena X e poi scendo subito al volo Quindi vedete se avete sta situazione che il personaggio si teletrasporta sul veicolo E' perfetto ragazzi Quindi a questo punto fate comparire la scritta esci dalla base operativa E pigiate X e triangolo insieme ragazzi E' semplicissimo Una volta fuori dalla base operativa portate la BMX in garage Ragazzi questo glitch è molto utile Perché per chi non ha un amico E vuole comunque fare delle duplicazioni per cazzi suo In sessione privata e tutto il resto E' veramente molto utile Come vedete ragazzi ho messo a questo punto la BMX al posto del veicolo Della LG che ho appena portato fuori Adesso dovremmo spostare la BMX in base operativa Niente di più semplice ragazzi Basterà chiamare un veicolo dentro la base operativa E adesso ne prendo uno alla cazzo Però insomma se voi magari state facendo il glitch e vi organizzate E mettete delle LG RH8 nella base operativa e fate il glitch E adesso vado a chiamare il Dumbagy Scusate ragazzi ma sto veramente attappato Quindi andiamo a chiamare la Dumbagy E la mettiamo al posto della BMX ragazzi E a quel punto la BMX andrà a spawnare direttamente nella base operativa Si scambierà con la nostra Dumbagy Adesso ve lo faccio vedere È semplicissimo però tante volte ho visto che ci stanno persone che sono legnose Che non capiscono quindi Ma io farle vedere cose Ve lo sto ripostando questo glitch Perché quello lì giustamente da fare da soli è stato facciato Tante persone se scordano i glitch da oggi a domani Già se lo so scordato il glitch E quindi ve lo ho voluto ripostare Questo insieme a quello della duplicazione da soli Per il momento sono gli unici funzionanti C'è un after patch per poter duplicare dentro la base operativa in due Con la Wenger E lo stesso after patch ci consentirà di mettere una BMX Un aereo, un veicolo speciale Quello che cazzo volete voi dentro la base operativa Anche se non ne vedo l'utilità L'unica cosa utile è mettere una BMX Secondo me Scusate ancora ragazzi E quindi nulla ragazzi Come vedete la BMX è ritornata nella base operativa Che altro dirvi ragazzi Approfittate di questo glitch Un saluto a tutti Al prossimo video No mercy Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti